Siracusa droga, duro colpo all'arredo dello spazio siracusano, la squadra mobile arresta due corrieri e uno denunciato. La Polizia di Stato di Siracusa ha infetto un ennesimo duro colpo all'arredo dello spazio siracusano. In questa occasione ad operare sono stati gli agenti della squadra mobile impiegati in predisposti servizi antirapina, pianificati nelle giornate dedicate alla riscossione delle pensioni. I poliziotti hanno arrestato due giovani rispettivamente di 25 e 16 anni e denunciato un uomo di 45 anni, tutti conosciuti alle forze di polizia, per detenzione a fine dello spazio di sostanze stuprofacenti. Gli uomini diretti dalla dottoressa di Natale in servizio con una motocicletta notavano nei pressi di Via Francia un'autovettura a sfrecciare a forte velocità. A insospettire gli investigatori è stata la circostanza che sul mezzo viaggiassero tre persone e una di loro era nota agli agenti per essere vicini all'ambiente dello spazio siracusano. L'imprevisto incontro ha determinato nei due poliziotte la decisione di seguire in maniera discreta i tre individui che fermavano l'autovettura nei pressi di Via Giuseppe di Natale. L'autista del mezzo, sceso dall'autovettura, fingeva di controllare all'interno del vano motore un ipotetico guasto mentre il minore occultava in un cumulo di spazzatura un involucro sospetto. Il gesto non sfuggiva agli attenti investigatori che intervenivano e bloccavano i tre soggetti. L'accuma dei poliziotte veniva così premiato perché l'involucro nascosto all'interno di un cartone buttato tra i rifiuti conteneva 234 dosi di cocaina, 51 dosi di marijuana e 106 dosi di hashish. Il sequestro della droga infliggeva un altro duro colpo alla rete dello spazio siracusano permettendo di togliere dal mercato un importante quantitativo di sostanze estropefacenti. L'autovettura sulla quale viaggiavano i tre soggetti e gli accertamenti esperiti dagli agenti operanti risultava essere stata rubata il 31 luglio scorso nel comune di Melilli ragione per la quale il 25enne è stato anche accusato per il reato di ricettazione. Al termine delle incombenze di legge, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari e il minore è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Catania.